Federico, un gol, una grande partita, una grande Feralpi Salò. Sì, una serata perfetta contro un'Alessandra prima in classifica. Abbiamo fatto una prestazione perfetta, abbiamo messo in campo tutto quello che abbiamo provato con il Mistro durante la settimana e i risultati sono venuti. Ci racconti il gol, perché il portiere sembrava averla presa. Sì, c'è stato un bel cross di Fabris, io sono arrivato sul secondo palo, sono riuscito a anticipare il difensore, l'ho schiacciata e per fortuna che sul rimbalzo non è riuscito ad arrivare il portiere. Sei rientrato da poco, avevi subito un infortunio fastidioso, però ti aspettavi un rientro, un ritorno così in gamba, in forma? No, sono contento da quel punto di vista, sì, sono stato fermo un po' di giorni e dopo, per fortuna, sono riuscito comunque ad andare in piscina e non perdere completamente la forma. Sto bene, sì, sia la partita prima che questa partita, la gamba c'è, infatti sono contento, sì. Sì, come dicevo prima, sono contento di essere rientrato negli schemi del Mistro, mi ha subito messo a titolare l'altra partita con il Pavia. Sì, sono soddisfatto della forma, di quello che stiamo creando in campo. Un assist per guerra che per un soffio non diventa poker, cioè il difensore lì ha fatto veramente qualcosa di importante. Sì, è un peccato perché forse Simu se lo meritava, ha avuto due occasioni nitide al primo tempo e non è riuscito a buttarla dentro. Peccato, mi dispiace per lui, ma la butterà dentro la prossima volta. Grazie. Grazie.